L'obiettivo 14 dell'agenda ONU 2030 mira a conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. Gli oceani occupano il 70% della superficie terrestre e sono responsabili del benessere del pianeta e delle persone, regolano il clima, producono ossigeno e sono fonte di risorse naturali e soprattutto di cibo. Il forte sfruttamento dovuto alla pesca assieme all'inquinamento sta portando al rapido esaurimento di numerose specie di pesci. L'obiettivo 14 è organizzato in 7 distinti target che si prefiggono di ridurre in modo significativo tutti i tipi di impinamento marino. Inoltre mira a regolare la raccolta e la pesca eccessiva e a combattere la pesca illegale. Nel nostro piccolo possiamo intervenire facendo la raccolta differenziata in modo da ridurre il rischio che le plastiche finiscano nelle acque marine. Grazie per la visione!